I need to find a way forward. Fino a che non arriviamo ai coso, la torre... Allora... Forse è meglio portare Chiaroscuro, visto con la storia dei Drow e dei Seluniti forse... Lo sostituiamo... Lo sostituiamo lei un attimo... Vuoi richiudere la nostra storia? No! Sì... Come dicevi... Non continui a guardare. Mi hai dato i soldi? Poi... Lasciamo giù chi? Ma la storia non è utile. Lasciamo giù Gale. Dov'è che è? Qua? Di cosa è la che si fa? Bah... Era una grotta che non conosciente... Però... Allora mi sento meglio. Come posso aiutarti? Ho detto da uno che ha un cadavere ambulante... Però... Cioè se avessero sensato che rispondesse... Sì, in effetti adesso sono un po'... Un po' contuso... Le proviamo a portare... Lei... Eccolo... Eccolo... Il momento di livello... Ovviamente... Sembra su una scala... Sembra... Questa inquadratura... Unisciti a me carnalmente... Unisciti a me carnalmente! Eccolo se c'è problema. Eccolo! Ehm... Vorremmo vedere... Facciamo salvataggio... Eccolo. Eccolo. Se non mi fa scegliere nulla, meglio Ok Ah, 10 Un movimento veloce Attacco extra anche lei E qui è stato facile Distruggere non morti Quando scaccia una creatura non morte con successo Le infligge anche da 4 a 24 danni radiosi Non che ci siano non morti qua, credo Il slot è incantesimo, non te Conosci già questo incantesimo Cosa che ha? Animali morti Faro di speranza Tutto le altre ricoprono il massimo i punti ferita possibile Quando vengono curati E ottengono vantaggi e tiri Cioè, cos'è che è una specie di booster Cioè, faccio faro di speranza Una specie di benedizione Poi però, quando li curo Luce di urna Morto apparente Traccia un bifo sul terreno che innesca un effetto magico da te scelto quando un nemico la calpesta Cioè, tipo fuoco, eccetera Che riceve danni da fuoco Però la guaritrice di massa Cura un cavolo Protezione dell'energia Tocca una creatura per rendere resistenza e danni da acido Freddo fuoco, fumi, a tuono Sono tutte belle queste cose qua Ma vorresti averle tutte, come al solito Cioè Che devo andare avanti Cent'anni per avere un po' Oppure Rimuovo in maledizione Oppure Rinascita Un punto ferita Cioè torna Con un punto ferita Parlare con le morti Massimo di 5 domande Guardane spirituali Invoca Gli spiriti per proteggere Se gli nemici vicini subiscono Può diventare invisibile Per proteggerti Boh Sembra figo Ma 5,8 C'è un altro vantaggio I tiri su salvezza C'è Su saggezza E contro la morte Basta Ma Avevamo Prendiamo questo Scusa un secondo Ma Dobbiamo scegliere L'incantesimo L'edomina dell'inganno No Ci sia questo Incantesimo Allora C'è Soltanto A questa C'è che io Non posso far niente Scusa Aggiungi classe Allora Cioè Conoscendo già Un incantesimo In terzo livello O meglio Tu Sei lo stesso Da scagliare Maledizione Non possiamo Scegliere Nient'altro Cosa vuol dire Cioè Questo l'ho conosciuto Prima Va bene Allora Non posso più Scegliere niente Non ho capito Questa cosa Cioè 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 se io Voglio lanciare Una cosa di terzo Livello Che faccio Poi tra l'altro Lanciare Non mi ricordo Non mi ricordo Non mi ricordo nemmeno Dove l'ho preso Però vabbè Non lo so Se sapete Cosa è successo Me lo spiegate Concludiamo la giornata Sembrava che dovesse succedere qualcosa Vincenzo Cioè Nel senso Che Allora Lui ha qualcosa Da dire Qual era quello Per Questo Cioè Un regalo Quelle monete Sembravano Voglio un negoziante Qua Osso Cioè Faccio il suono Delle monete E cosa deve servirmi Vabbè Usciamo No capito Sta stare Comunque Di Cioè Ci avessi fatto Scegliere Un incantesimo Dice Ah Ne conosci Già Uno Basta Arrangiti Questo Sembrava Il discorso No capito No capito No capito Sì, abbiamo un'infiltrata che si muove molto spettacolo. Non spettacolo per la mia piaccia, però. Il ruolo ti ha fatto da qui. Credo che ti sceglie prima che qualcosa di freddo viene. Il cuore è un'acqua. Il pezzo è un'acqua. Il pezzo è un pezzo di grigio, vedete la brande absoluta. C'è una marea di scelta Religione Questo immagino che sprechiamo il nostro potere Per la giornata Proviamo questo Incredibile Non è una buona cosa Non è una buona cosa di avere più dei guerrieri assoluti Credo Potrebbe aiutare a sicuramente di lavorare Questo messo Share You really are in the wrong place, son scum Try this for useful Falling down a deep dark hole Is the kindest death you'll find in the underdark Hunting Slave ran away Took Sergeant Thrin's boots Got a kill a slave And fetched back the leather Or the bosses in Moonrise I'll have Thrin's hide Ebbene Non è un essere umano Fine Suppose I'll just eat you then Eh Ah C'è Non ci arriviamo fino a là Eh C'è da dire che mi sta sulle palle Quindi va benissimo a manzarlo Scusa un secondo me Due gare di livello 1 Non possiamo sapere una classe Classe Roma Oh Oh Ma zia una bonus Vai Eh I don't know Dieci wow Cosa che c'è qua C'è un altro che sta arrivando Ok Cosa è il suo fratello? In position Mancato? Ma incredibile Ma quanti cazzo sono? Attacco di opportunità di M Allora Allora Tipo Allora Non ho ancora dato un cavolo di Di cura Che cazzo è il suo fratello di M Ok Steglie C'è ancora qualcosa qua Tutti quei zombie Lì Che città Che città Sessantadue? Ah è lui Che città Non quell'altro Quello lì Olvik 35 Questo qui 62 Che Che città Come on Siamo silenziati Questa qua è un'area di silenzio Una sfera praticamente E' un problema Come movimento non è sufficiente Ma perché non riesci a colpire Scusa in vista Attacco di stanza Vabbè Ho capito Cioè non mi puoi dire Che questo corpo qui sia in mezzo le palle Inversario non può essere se stesso Ok Riusciamo No Abbiamo già fatto un'azione bonus In grandire Ma scusa questo si è spostato Come mai non abbiamo fatto Attacco Bastornato Carai qua Stronzo Adesso Scatta Se ne va Se ne è bonus Proviamo a vedere se funziona Poi non possiamo far questo Ovviamente Comunque andiamo io Andosso lo stesso Questo Andiamo fuori da qua Mancato Colpo critico 15 Stronzo Ciao Quanti cazzo sono adesso Cioè qua è un bel posto Siamo arrivati qui Già dobbiamo massacrare Gli neanche di Avernus Facciamo un attimo Non colpisce il cuore scuro Come funziona Così E questo è un novizio Ma 52 Intanto Senza Suferova Perché mi ha attaccato Scusa Cioè non abbiamo fatto un tubo Mancato Ma vaffanbani Era Cuore del luce Scusa un troppo Non lasciamo perdere Adesso deve essere andato Il movimento non è sufficiente Non ci si può stare in mezza Non ci si può stare in mezza Non ci si può stare a mezza Ok, ci sono questi tre qua Trattato due, due, ventidue E niente, finiamoci qua Poi devo fare un'altra cosa invece, andiamo giù qua Non ho fatto mai il fuoco No, solo uno? Danno? Che bastardo Ok Non riesco a saltarla Ok Allora io ho stronzo ancora No, no, non ho fatto in tempo Tutte e tre, tutte e tre Fermi, 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 fermi Mancato Mancato Ancora vivo Ma va Allora Allora Incoming Però, bisogna fermarsi qua 15, cavolo Quasi è andata Si è anche curato Mancato Che rottura qua però Che... Via No, consumiamo un attimo la cura Non può raggiungere la destinazione Ma in effetti Che cavolo vorrei dire Questa posizione qua C'è Questo è un bug Perché non è raggiungibile È una posizione assurda Questo qua Eh sì Che cosa facciamo? Ma che vuol dire? Ma che ci fa lì? Ma stanno scherzando? Cos'è? Moriamo Perché lui ha un vantaggio Che non riusciamo A superare Eccorriamoci Ma cosa che cambia? 1,8 1,8 13 Come cavolo facciamo Questo qua? Posso saltare qua Lui? No Dovevo sperare Di prima o poi Colpirlo 4 Ok 1 Ok Tira Salvezzo Riuscito Ah Non è ancora 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 vivo per uno Ma va a fan bagno Ma forco cane 25% Ma Che stronzata Trovare Di fare scomparsi Dunque Non è ancora Vabbè Allora vediamo che cosa hanno Let me just set that Dobbiamo mandarlo a Karl Lack Uguale Questo fa la protezione di tir Che appunto ecco perché ce l'avevamo Questo invece Extra 1-6 danni a fuoco extra Ai vegetali, ai insetti E le creature di taglia piccole Però comunque fa da 6 a 22 possibili Quindi Potevamo tenere su questo Allora questo abbiamo fatto Li ha rozbradito No Quindi questi qui adesso Come faccio interagirci Impossibile raggiungere Se questo qui Vi sento qualcosa di prezioso Per poter proseguire Come facciamo Cioè lui si inventa che non è Che ti devo dire Non credo che abbiano nulla questi qua che Ok Ok Scendiamo Tappa scoperta Veneno semplice Direi lo sporco di sangue Hmm Lago d'Ebano Quindi c'è qualche lago d'Ebano qua C'è un presunto lago d'Ebano Eccolo qua La tappa Allora non è così che abbiamo visitato Siamo andati direttamente lì C'è anche un passaggio qua Credo che qua non avessimo visitato O a marci non ci servono Hmm E' un passaggio qua la roba lì Ah ecco uno squalo di terra Rega cos'è quella roba lì Hmm Questa cos'è Ah è un bug C'è vino Diario rilevato in pelle Questa cos'è Boh teniamo Negare fallimento Quindi c'è qualcosa qua Ehm C'è stato Un'altra pietra silvana Impossibile da raggiungere Mi sembrava che si fosse illuminato Un'altra cosa come questo Ah ecco qua Ma che vuol dire Unghi finti Ah Allora quelli che non peggiano Sono finti Sì ma qualche motivo C'è qualche prezzo Andare qui sopra C'è un'altra pietra C'è un'altra pietra C'è un'altra pietra Dovrei richiamare anche questi qui Per Provideri di abbatterli Però Non saprei che cosa spostare Ormai Credo che gli anelli pesino Poi più di tanto Ci abbiamo ancora questa roba Un avvelenamento Pesa 1.8 Spada corte del primo sangue 5.12 5.17 6.17 6.17 6.17 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17 C'è qui ci siamo incasinati Adesso a salire Marachite Ok Ok Sì Sembrava un passaggio Per andare qua Quindi non è una cosa Stupida Il problema è Dunque questo è Astarion Anzi siamo ancora scuro Il problema è che Poi bisogna farli fare A tutti Troppo alto E quindi come facciamo? Aspetta un attimo Allora 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 Allora